Hanno rischiato grosso i due ventenni, un ragazzo ed una ragazza, che ieri sera hanno chiamato il 118. Poco dopo le ore 20, uno dei due accusava forte nausea e senso di vomito accompagnato da stordimento, chiari segni di intossicazione da monossido di carbonio. Se avessero tardato solo pochi minuti, i soccorritori sarebbero arrivati quando ormai i due sarebbero stati privi di vita. In odore e subdolo il monossido di carbonio è un killer silenzioso e spietato che alle volte non ti lascia nemmeno il tempo di chiedere aiuto perché quando avverti i malori è già troppo tardi, come avvenuto nel 2016 in pieno centro storico di Urbino dove un uomo e una donna sono stati trovati morti nel loro letto la mattina seguente dai vigili del fuoco uccisi da una caldaia difettosa. I due giovani però sono stati soccorsi in tempo e quando i vigili del fuoco sono arrivati nella palazzina bifamiliare lungo la via Flaminia al numero cinvico 405 di Carrara di Fano hanno capito subito che la causa dei loro malori era il monossido di carbonio sprigionato da un termoconvettore a metano difettoso che attraverso una finestra aveva saturato l'ambiente col gas. Dopo che i vigili del fuoco di Fano hanno messo in sicurezza l'impianto, i sanitari del 118 si sono occupati dei ventenni che sono stati portati subito al pronto soccorso del Santa Croce di Fano. I medici però una volta constatati gli alti valori dell'intossicazione hanno subito disposto il trasferimento d'urgenza al centro iperbarico di Fano per sottoporli ad un ciclo di terapia grazie alla quale ora i ragazzi sono fuori pericolo di vita.